Niente bis per il Barretta Calcio 5, un po' per propri demeriti in zona gol, un po' per colpa della sfortuna e dei tre legni colpiti. Passa il giovinazzo al pala di sfida Mario Borgia e si prende il derby contro i Biancorossi, allenati da Antonio Di Benedetto, che non riescono a dar seguito, almeno sul piano del risultato, alla vittoria ottenuta contro il Real Team Matera in occasione del match d'esordio nel campionato di Serie B. Padroni di casa in vantaggio con Calamita ma subito raggiunti da De Palma. Parità all'intervallo, i biancoverdi trovano il primo vantaggio con Bombino, i biancorossi lo annulano successivamente con Capacchione. Poi il finale, favorevole al giovinazzo, a segno con Binetti, complice la mancata intesa tra Antonucci e Stella e ancora con Bombino, con il Barletta riversato in avanti alla ricerca del pareggio. Il risultato è negativo, la prestazione decisamente no. Abbiamo fatto una grande partita, non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi, tranne qualche episodio a livello individuale, che poi in settimana cercheremo di sistemare. Sono felicissimo della prestazione dei miei ragazzi perché oggi hanno dato tutto, abbiamo sudato la maglia e secondo me non meritavamo di perdere questa partita. La copertina della seconda giornata se la prende così il futsal Barletta che riscatta prontamente lo scivolone l'esordio contro il Manfredonia e giganteggia in trasferta nel derby con il Mola. Dice tutto il punteggio finale, 8-3 in favore del quintetto di Leo Ferrazzano, primo tempo equilibrato, poi monologo dei biancorossi nella ripresa. Protagonisti, Chiariello e Iodice, entrambi autori di una tripletta, a segno anche Bivaldo e Falco. Nulla di fatto invece per il Fuzz al Biceglie che al Paladormen lascia i tre punti al Marcianise e incassa la prima sconfitta stagionale dopo il pari esterno al debutto di Giovinazzo. Sfortunato il quintetto di Francesco Ventura con ben tre legni colpiti, cinici e spietati invece i campani. In gol a metà della seconda frazione con Andreozzi, l'azione è vizzata però da un fallo e danni di pedone, e Ruocolano nel finale. Non so cosa si è inventato l'arbitro perché alla fine stavo proteggendo io la palla e ho avuto una spinta netta e l'arbitro ha deciso di far continuare e sono andati diciamo in vantaggio. A mio avviso abbiamo fatto una buona gara, peccato solo per il risultato perché secondo me è immeritato. Non è scesa in campo invece la Salinis nel campionato di Serie A2 in virtù del turno di riposo nel torneo di Serie A femminile. Infine, la formazione di Margherita di Savoia è stata sconfitta in trasferta 6-2 dal Team Roma.